Grazie Presidente. Ovviamente noi approveremo questa mozione perché il tema è molto delicato e siamo molto attenti ai diritti delle persone con disabilità sempre, talmente attenti che abbiamo anche riaperto i termini del bando per poter usufruire del trasporto disabili. Quindi ovviamente chiederemo agli uffici di fare queste valutazioni, quindi di valutare la possibilità di continuare questo servizio nel rispetto dei diritti di queste persone disabili, quindi anche del loro diritto allo sport e soprattutto nel rispetto delle leggi vigenti. Noi siamo sicuri che faranno questo, cosa che magari in passato non è stata fatta. Grazie.